Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi torniamo negli Stati Uniti per parlarvi di un caso davvero intricato, ricco di colpi di scena e che ha trovato la soluzione con 17 anni di ritardo. Lo scenario di questo caso è il più classico dei noir, un lago, una misteriosa scomparsa e un segreto inconfessabile. Ma questa è una storia vera, che riguarda un uomo mite, gentile, amato da tutti, vittima di un inganno mortale. Un caso che ricorda un fatto recente avvenuto in Italia di cui, quando si concluderà il processo, mi piacerebbe parlarvi. Oggi vi parlo dell'incredibile caso di Mike Williams. La nostra storia si apre al confine fra la Florida e la Georgia, sullo sfondo del bellissimo scenario del lago Seminol, uno dei posti preferiti di Mike Williams, 31 anni, il protagonista della nostra storia. Mike amava la vita all'aria aperta, i silenzi e gli spazi sconfinati, la rassicurante calma delle acque del lago. Mike aveva una passione che molti potrebbero trovare discutibile, me compresa la caccia alle anatre, a trasmettergli quel lobby suo padre che se lo portava dietro durante le sue interminabili sessioni di caccia quando era bambino. In quelle lunghe giornate al lago Seminol, Mike imparerà ad apprezzare la natura, la contemplazione e la pazienza. Lo stesso lago che Mike attraverserà per l'ultima volta il 16 dicembre del 2000, il giorno in cui l'uomo farà perdere le tracce di sé per sempre. Ma cosa era accaduto? E chi era Mike Williams? Jerry Michael Williams nasce nell'ottobre del 1969 a Bradfordville, in Florida. La sua è una famiglia della medio-borghesia, la madre Cheryl è una maestra d'asilo, il padre è un autista di autobus. Jerry e il fratello Nick crescono circondati dall'amore di questi due genitori, che avevano su di loro grandi aspettative. Volevano fossero ben istruiti affinché un giorno potessero avere una posizione di prestigio nel mondo del lavoro. Per questo risparmiano ogni centesimo al fine di creare un fondo da destinare agli studi dei figli. Nick e Mike vengono così iscritti nella migliore scuola della contea, la North Florida Christian School. Seguendo l'esempio dei genitori, i due ragazzi imparano a cavarsela da soli e a lavorare soprattutto, per non dover chiedere soldi. Per questo trovano un lavoro in un supermercato, dove coprono alcuni turni notturni alla settimana. Poca roba, giusto ai soldi per uscire, farsi una pizza, una birra. Sono due bravi ragazzi i fratelli Williams e tutti lo riconoscono. Specialmente Mike, il più mite fra i due, gentile, dai lineamenti delicati, capelli chiari e occhi azzurri e un sorriso bellissimo e disarmante. Mike si fa benvolere da tutti, è coinvolto nei gruppi più in vista della scuola, è presidente del consiglio studentesco e ovviamente uno studente modello con i voti più alti della sua classe. Ma è anche un tipo atletico e ben presto entra a far parte della squadra di football della scuola. Sì, insomma, è il classico ragazzo popolare, pieno di amici e di cui tutti parlano più che bene. Manca solo un tassello a questo quadro idilliaco, una storia d'amore con la ragazza più carina della scuola. E neanche a dirlo, Mike in quella scuola incontra quello che sarà l'amore della sua vita, la bellissima Denise Merrill, che come nella migliore tradizione è una cheerleader. Mike è un tipo molto alla mano, un idealista, uno che difende gli studenti più deboli dai bulli e per questo è molto molto amato. Come diranno in molti, tutti gli volevano bene perché era genuino e aveva un animo buono. Ma c'è un amico in particolare che il ragazzo ritiene quasi un fratello. Il suo nome è Brian Winchester. Mike, Denise, Brian e la sua ragazza, Katie, diventano un quartetto inseparabile. Vanno al cinema insieme, alle feste e ovunque ci sia qualcosa da fare, loro ci vanno in gruppo. Dopo il diploma conseguito con il massimo dei voti nel 1988, Mike si iscrive alla Florida State University, dove si laurea in scienze politiche e urbanistica. E pensate, è così bravo che ancora prima di laurearsi ottiene un posto come esperto in valutazione di immobili, presso la Ketchum Appraisal Group. Ciliegina sulla torta, Mike nel 1994 sposa la sua bellissima fidanzata Denise e insieme vanno a vivere a Tallassi, in una casa in affitto inserita in un contesto residenziale chiamato Centennial Walk Circle. È il coronamento di tutte le aspettative che i genitori avevano riversato su di lui fin da bambino. Mike aveva afferrato ogni treno e viaggiava con il vento in poppa. Era super stimato al lavoro e apprezzato da vicini e amici. Nello stesso anno anche Brian e Katie convoleranno a giuste nozze. La loro amicizia più salda che mai e si nutre di grandi weekend insieme al lago? Viaggi? Barbecue in giardino? Partite di football? Sembra la trama di un telefilm per famiglie, però se così fosse non saremmo qui a raccontare questa storia. Il 1999 è un anno speciale per Mike e Denise perché mettono al mondo una bellissima bambina di nome Hansley, per cui entrambi stravedono, ma che però sconvolge un po' le dinamiche della coppia. Denise infatti decide di lasciare il suo lavoro di contabile per occuparsi esclusivamente della sua bambina. Mike invece è sempre più impegnato con il suo lavoro. Spesso rimane in ufficio anche 14 ore al giorno e talvolta si porta le sue scartoffie a casa e si mette a lavorare subito dopo cena quando moglie e figlia sono già a letto. Il suo capo pensata a un certo punto è costretto a requisirgli le chiavi dell'ufficio per evitare che Mike andasse a lavorare anche nel weekend. Ma non trascura di collaborare in casa, spesso è lui che fa la spesa e cucina, si occupa della figlia per cui ha una vera e propria adorazione. Sì, Mike sembra avere sempre le energie per fare tutto, sembra davvero instancabile, ma tanto impegno però viene ripagato in termini di profitto. Pensate che nel 1999 Mike, che ha appena 30 anni, arriva a guadagnare 200 mila dollari e con parte dei soldi paga l'anticipo per l'acquisto della loro casa dei sogni sul lato est della città. Ma è anche l'anno in cui Mike perde suo padre ed è una perdita che lo devasta nel profondo e forse anche per questo il suo rapporto con la figlia appena nata si fa strettissimo e quasi esclusivo. Anche Brian e Katie sembrano avere una vita quasi parallela a quella di Mike e Denise, anche loro professionisti instancabili, genitore di un bambino nato anche lui nel 1999 e con una bella casa dove accolgono amici e parenti. Il nuovo millennio si apre all'insegna di grandi progetti di vita, primo fra tutti la nascita di un nuovo figlio. Ma la fine di quell'anno non si chiuderà nel modo in cui si era aperto, perché in un giorno di dicembre del 2000 tutto cambia di colpo. Quel giorno Mike sparisce improvvisamente. È la mattina di sabato 16 dicembre, il giorno in cui Mike e Denise hanno previsto di partire per la loro fuga d'amore, per festeggiare i loro sei anni di matrimonio. Ma Mike non può rinunciare alla sua battuta di caccia all'anatra, così quella mattina si sveglia prima dell'alba e senza fare rumore sgattaiola da casa quando è ancora buio e tutti in casa dormono. Si mette alla guida del suo Ford bronco e con la sua barca a rimorchio si dirige verso il lago Seminole, che dista un'ora circa da casa. A Denise lascia un biglietto con su scritto «torno a mezzogiorno». E Mike doveva avere proprio una grande passione per decidere proprio quel giorno di andare a caccia. Ma ci potrebbe essere una spiegazione logica. La caccia all'anatra non è un affare da poco, ci vuole pazienza, precisione, ma ci vuole anche azzeccare le giuste tempistiche. E questo perché la stagione dura pochissimo. Ecco perché Mike appena possibile, approfittando di ogni momento libero, organizzava l'attrezzatura e andava. Il lago Seminole è un enorme specchio d'acqua ricco di pesci e dove le anatre adorano stazionare. Mike con la sua barca inizia a solcare le acque rese ancora scure dall'aurora del mattino. Doveva essere l'inizio di una giornata perfetta. Eppure da quel momento in poi nessuno lo rivedrà mai più. Mike quindi non torna a casa come previsto. E questo è assolutamente inusuale. Proprio lui sempre attento ad avvisare la moglie anche per il più piccolo ritardo. E cosa ancora più allarmante, il cellulare di Mike risultava spento. E a quel punto Denise, non riuscendo a contattarlo, si allarma immediatamente. Intorno alle due la donna allerta il padre e alcuni amici di Mike, tra cui Brian e suo padre Marcus. E tutti insieme si dirigono verso il lago Seminole. Il Seminole però è un lago gigantesco che copre un'area di circa 56 chilometri. E quindi è quasi come cercare un ago in un pagliaio. Tuttavia Brian prende in mano la situazione e inizia a dirigere le iniziali ricerche. E a circoscrivere l'area in cui avrebbe potuto trovarsi Mike. E questo perché aveva accompagnato tante volte l'amico o le sue battute di caccia. E più o meno sapeva qual era l'area dove vi era maggiore concentrazione di anatre. Tutti iniziano a cercare Mike e soprattutto la sua imbarcazione. Ma le ricerche vengono interrotte quasi subito per via di un forte vento in arrivo, che in breve produce una brutta tempesta. Alle 2.30 del mattino la squadra riprende le ricerche, dividendosi le aree. Brian e suo padre si dirigono in quello che viene chiamato lo Stumpfield, chiamato così per la presenza di ceppi di legno che emergono dall'acqua. E proprio lì, a ridosso della riva del lago, viene ritrovata la piccola imbarcazione di Mike, il cui scafo è completamente immerso nella fanghiglia. A qualche metro dalla riva sul limitare del bosco trovano anche il Ford Bronco di Mike, con il rimorchio per la barca. All'interno dell'imbarcazione viene ritrovato tutto il suo equipaggiamento per la caccia, tra cui due giubbotti salvagente e il suo fucile di precisione. Viene controllata anche la tannica di benzina che risulta piena. Di Mike, però, neanche l'ombra. Un elicottero viene fatto sorvolare sull'area, mentre vigili del fuoco, agenti di polizia e la protezione civile iniziano a dragare il fiume in cerca di Mike, usando anche delle sonde con delle videocamere a raggi infrarossi. Ma le ricerche, brevi per via dei forti venti e delle temperature basse, non portano a nessun risultato. Mike sembra svanito nel nulla e più passa il tempo, più si dimezzano le possibilità di ritrovarlo vivo. A pochi giorni dalla scomparsa, quindi, nessuno spera più in un miracolo. Le operazioni di soccorso rallentano il ritmo, perché a quel punto si stava cercando un corpo. Eppure, se davvero Mike fosse annegato in quelle acque, il suo corpo o parti di esso sarebbero dovuti riemergere prima o poi. Non era certo la prima volta che qualcuno annegava nel seminole, e in tutti i casi i corpi erano sempre stati recuperati. Cosa c'era di diverso stavolta? Vengono avanzate le prime ipotesi. Mike era certamente stato vittima di un incidente. Forse la barca si era incaiata in uno di quei tronchi emersi. È probabile che il suo corpo sia stato sbalzato fuori dalla barca, e poi qualcuno ipotizza lo scenario peggiore. Forse Mike era stato sbranato da uno dei tanti alligatori che popolano quella parte di lago. E in effetti la Florida è uno degli stati dove vi è una grande presenza di alligatori, e non è difficile trovarne di enormi che passeggiano tranquillamente tra le case. Quella dell'alligatore è un'ipotesi orribile, ma Brian Winchester, il miglior amico di Mike, la ritiene plausibile. Lui conosce quella zona, sa che gli alligatori lambiscono le sponde di quell'area. Lui sa e concorda con quel triste scenario. E in breve, per tutti, quella sarà l'unica spiegazione plausibile. Per tutti, ma non per Cheryl, madre di Mike, che si rifiuta di credere a quella ipotesi. La donna determinata a saperne di più si rivolge a un esperto, e a lui sottopone quella teoria. E ciò che le dice l'esperto la lascia senza parole. L'uomo dice che gli alligatori, in realtà, in presenza di acque con temperature molto basse, perdono come l'appetito. E se mai lo avessero attaccato, le probabilità di averlo smembrato completamente sarebbero state molto basse. Sì, insomma, era molto probabile che avessero smesso di cibarsene, e che quindi parti del suo corpo potessero essere ancora intatte. E allora perché il corpo di Mike, o parte di esso, non era mai stato ritrovato? Ad ogni modo, l'11 febbraio del 2001, le autorità interrompono ufficialmente le ricerche. Questo vuol dire solo una cosa, che Mike non è più in vita. Sei mesi dopo l'interruzione delle ricerche, però, succede qualcosa. Dalle acque limacciose di quella sponda del lago Seminol emerge un cappello e un paio di stivaloni di gomma, seguiti da una giacca rossa a quadretti, una torcia e una licenza di caccia che reca il nome di Mike Williams. Ma c'è qualcosa di strano. Quegli indumenti sono pressoché intatti, così come la licenza di caccia, le cui lettere sono ancora leggibili. Anche la torcia è funzionante, il che è strano, perché come è possibile che la torcia non fosse completamente ossidata e fuori uso, e il foglio non fosse totalmente distrutto o illegibile. O che la giacca e i trampolieri da pesca non avessero segni dei morsi degli alligatori. Eppure erano passati sei mesi dalla scomparsa di Mike. E perché quegli indumenti e quegli oggetti non erano stati ritrovati prima? La gente della piccola comunità di Tellassi inizia a rumoreggiare sul fatto che forse Mike non fosse affatto annegato e che avesse solo simulato la sua morte. Cheryl sa di tutte le volte in cui il figlio, stanco di quella vita frenetica, le aveva detto di voler mollare tutto, di volersi prendere un anno sabbatico. Ma sa anche che mai avrebbe abbandonato la sua adorata figlia. E poi c'era anche il progetto di una nuova vita. No, Mike non l'avrebbe mai fatto. Ma c'è ancora un'altra anomalia in questa storia. La distanza fra il bronco con il rimorchio e le sponde del lago è di circa 70 metri. Come avrebbe fatto Mike a trascinare la barca da solo su quel terreno rimaccioso? Sarebbe sto più semplice e logico avvicinare il bronco in prossimità della riva? La tempesta che aveva imperversato per tutta la notte il giorno in cui era scomparso Mike avrebbe dovuto trascinare la barca verso la parte est del lago e non verso ovest dove invece era stata ritrovata. Le anomalie a questo punto sono troppe e non possono essere ignorate. Eppure non solo sono state ignorate, ma in contrasto con la legge della Florida che vuole che un soggetto scomparso venga considerato legalmente deceduto dopo cinque anni. Per il caso di Mike erano bastati appena sei mesi e su richiesta di qualcuno di molto vicino a Mike, la moglie Denise. Ma era davvero andata così? Davvero Mike era morto? E un'altra domanda legge nell'aria. Ma davvero Mike era andato da solo a caccia di anatre? L'uomo in realtà non era solito farlo in solitaria, spesso anzi quasi sempre andava insieme a Brian. E se davvero era in compagnia di qualcuno si spiegherebbe anche il fatto che avesse parcheggiato così lontano dalla riva. E' uno strano scherzo del destino quello che vuole che l'unica volta in cui Mike va a caccia da solo si ritrovi in fondo al lago o dato in pasta agli alligatori. Ad ogni modo per alcuni anni quella strana storia rimarrà sepolta sotto centimetri e centimetri di polvere. Eppure qualcosa era accaduto nel frattempo perché nel 2005 Denise Merrell, la vedova di Mike, si era risposata con una delle persone più vicine al marito, il suo miglior amico Brian Winchester. E io so che non siete sorpresi di questo. Un matrimonio che però darà adito a tantissimi pettegolezzi all'interno della piccola comunità di Tennessee. In tanti inizieranno a farsi delle domande su quella strana unione, una fra tutte. Ma Denise e Brian avevano già una storia quando Mike era improvvisamente scomparso? I due dichiareranno sempre di essersi innamorati dopo la scomparsa di Mike, ritrovandosi vicini per superare quella perdita. Una vicinanza che si era trasformata in amore, al punto da spingere Brian a chiedere il divorzio da Katie e a uscire allo scoperto con Denise. Ma tutto questo aveva qualcosa a che fare con la morte di Mike Williams o erano solo pettegolezzi? È certo un fatto, i rapporti fra Denise e Cheryl, la suocera, all'indomani della scomparsa di Mike si erano fatti subito molto molto tesi. Cheryl le si era scaiata contro per via di quella richiesta di dichiarazione di morte legale presentata ad appena sei mesi dalla scomparsa del figlio e aveva minacciato di contestarla. Denise, di fronte alla possibilità che la suocera contestasse la procedura di morte legale, l'aveva minacciata a sua volta di non farle più vedere la nipotina, l'unico legame con il suo adorato figlio Mike. Denise in seguito taglierà completamente i ponti con la famiglia di Mike e, di fatto, impedirà a Cheryl di avere contatti con la nipote. Per Cheryl sarà un colpo terribile, ma a quel punto non avrà più alcun motivo di cedere al ricatto di Denise e deciderà di andare contro tutto e tutti per scoprire la verità dietro alla morte di Mike. Ma negli anni ci saranno altri motivi di contesa fra Denise e i familiari del marito. Uno fra tutti una pistola che Mike aveva ereditato dal padre e a cui teneva moltissimo e che Nick, suo fratello, avrebbe voluto tenere come ricordo. Quando l'uomo la chiederà indietro, Denise gli dirà che non aveva idea di dove fosse finita. Servirà una denuncia di smarrimento per farla riapparire come per magia. Ma perché Denise per tutto quel tempo aveva negato di avere quella pistola? In realtà non era l'unica cosa che Denise stava nascondendo, ma lo vedremo. A questo punto facciamo un salto in avanti e arriviamo al 2008. Sono passati otto anni dalla scomparsa di Mike. Il caso è stato definitivamente archiviato, eppure Cheryl non si arrende e cerca in tutti i modi di coinvolgere i media nella sua lotta per la ricerca della verità. A riportare in auge il caso sarà una reporter che si era imbattuta in una lettera che Cheryl aveva inviato al Tullacy Democrat, un giornale locale, nel 2003. In quella lettera Cheryl metteva in dubbio tutta la storia, dalla presunta scomparsa alla strana teoria degli alligatori, fino al ritrovamento degli indumenti quasi intatti del figlio. Tanti dubbi, una sola certezza. Non si trattava di un tragico incidente, ma di un crimine vero e proprio. L'inchiesta della giornalista smuove un po' le acque, al punto da spingere le forze dell'ordine a rivedere il caso e riaprire le indagini, che però si presentano subito molto difficili. E questo perché il caso era sempre stato trattato come tragica fatalità, e quindi nessuna prova era stata mai repertata. Non erano state rilevate impronte di scarpe, non era stata isolata alcuna scena del crimine, non esisteva il corpo, e così in breve il caso ripiomba nel più completo oblio. In realtà, da quella seppur breve indagine, qualcosa era venuto fuori, ed è qualcosa che rimette tutto in discussione. Si scopre infatti che Mike, tra il 1997 e il 2000, aveva stipulato ben tre assicurazioni sulla vita, per l'ammontare di un milione e 750 mila dollari. Unica beneficiaria, sua moglie Denise. Ma la polizia scopre anche altro, e cioè che a 19 giorni dalla scomparsa del marito, Denise aveva chiesto di incassare il premio assicurativo. Una richiesta un po' prematura, che ovviamente le viene rifiutate in quanto Mike non era stato ancora dichiarato ufficialmente morto, e quando sei mesi dopo il marito, su sua richiesta, verrà dichiarato legalmente deceduto, la donna riuscirà finalmente ad incassare il premio della polizia. Di queste tre polizie, l'ultima, quella da un milione, verrà stipulata da Mike poche settimane prima della sua scomparsa, e indovinate chi gli aveva venduto la polizia? Brian Winchester, che di mestiere faceva l'assicuratore, suo miglior amico e futuro marito di Denise. E chi segue il true crime sa quanto le assicurazioni sulla vita incidano sulle indagini per omicidio, e questo caso ahimè non fa eccezione, specie in presenza di un così strano caso di scomparsa. Alla luce di questa scoperta, anche il matrimonio fra Denise e Brian assume per gli investigatori tutto un altro significato. Ma basta questo a sospettare i due di qualcosa di più di una froda assicurativa? L'opinione pubblica, lo sappiamo, non va molto per il sottile e punta immediatamente il dito su Brian e Denise. Ray non solo di aver ingannato lo Stato intascando la polizia di Mike ben prima dei tempi previsti dalla legge, ma soprattutto di non essere stati al fianco di Cheryl nel chiedere che si facesse luce su quello strano caso. E in effetti in quei lunghi anni né Denise né Brian si erano mai fatti intervistare o coinvolgere nella richiesta di apertura del caso, anzi tutt'altro. Un segno questo per la comunità di totale indifferenza nei confronti di Mike. Eppure alla scoperta di quello strano gioco di polizze, Denise e Brian per la prima volta accettano di rilasciare una dichiarazione pubblica. Per anni abbiamo pregato e sperato di scoprire cosa davvero fosse accaduto a Mike. Nessuno voleva ritrovare Mike più di noi. A finire maggiormente sotto accusa, Brian, colui che aveva venduto la polizza all'amico. Ma perché Mike avrebbe avuto bisogno di stipulare un'ulteriore polizza sulla vita? Mike dirà Brian era diventato padre e voleva una polizza più sostanziosa e lui, Brian, l'aveva aiutato ad ottenerla. La polizia scava anche nella relazione fra Brian e Denise, insinuando che i due fossero già amanti al momento della scomparsa di Mike. L'uomo risponde colpo su colpo ad ogni domanda tendenziosa dei detective, che però non mollano il colpo e gli chiedono anche l'alibi per la mattina del 16 dicembre 2000, il giorno della scomparsa di Mike. Brian dirà che quella mattina era sempre stato a casa, cosa che la moglie confermerà. Dirà infatti che i due si erano svegliati insieme quella mattina. Ma non solo, citerà anche a dire che quello con Katie al tempo era un matrimonio più che felice. Eppure Katie, la sua ex moglie, su questo punto farà tutt'altra dichiarazione. No, il loro matrimonio non era affatto felice a quel tempo, anzi era decisamente sull'orlo del disastro. Ma non solo, la donna si dice convinta che il marito già allora avesse una relazione con Denise. Quelle dichiarazioni spingono gli investigatori a perseguire la pista del complotto ai danni di Mike Williams, fatto sparire per poter intascare il premio assicurativo e vivere felici. Tutto questo però, senza prove a supporto, prove intese come tabulati telefonici, messaggi, era destinato a rimanere solo una pista suggestiva. Plausibile, ma nient'altro che una pista. Il caso, per l'ennesima volta, viene chiuso. Cheryl, però, indomita come poche, nel 2012 scriverà 240 lettere al governatore della Florida chiedendogli di aiutarla a fare luce su quel caso e, soprattutto, ad assegnare al caso una nuova squadra di investigatori per un sospetto conflitto di interessi, visto che un detective della squadra era amico di Brian e Denise. Ma, ahimè, quelle lettere non verranno mai lette e per Cheryl sarà come ricevere un pugno in faccia. Il caso potrebbe dirsi definitivamente chiuso, eppure nell'agosto del 2016 accade qualcosa che rimetterà tutto in discussione per l'ennesima volta. E' il 4 agosto del 2016, quando Denise Merrill Williams attraversa le porte del dipartimento di polizia di Tennessee per denunciare il marito Brian di averla minacciata con una pistola. In realtà, Brian non era più suo marito, perché proprio quell'anno Denise aveva chiesto il divorzio. Un divorzio difficile, a dire il vero. Pare, infatti, che fra i motivi della separazione ci fosse un problema di dipendenza dal sesso di Brian Winchester, che aveva portato l'uomo a tradire ripetutamente Denise. La donna è molto agitata mentre racconta ai poliziotti che Brian, quella mattina stessa, si era intrufolato nella sua auto per costringerla ad andare in un certo posto per parlare, sotto la minaccia di una pistola semi-automatica puntata alle sue costole. La donna racconta anche che, invece di seguire le indicazioni di Brian, si sarebbe diretta al parcheggio di un centro commerciale, piazzandosi a favore di telecamera a circuito chiuso, lì dove tutti potevano vederli. Una mossa astuta che costringe Brian ad abbassare l'arma e ad accettare le condizioni di Denise. I due, sempre secondo la versione della donna, avrebbero parlato per 45 minuti, durante i quali Brian avrebbe pianto disperatamente, dichiarando di amarla e di non volere il divorzio, arrivando a minacciare di uccidersi se la donna non fosse tornata con lui. Denise dirà di essere riuscita a calmarlo, promettendogli che non avrebbe denunciato nulla alla polizia. Lo avrebbe poi riportato al suo pick-up, parcheggiato appena fuori casa di Denise. La donna però è terrorizzata da quel tentativo di sequestro. E se ci avesse riprovato? Denise inizia a temere per sé e per la vita della figlia e decide di andare alla polizia per denunciare Brian, chiedendo l'immediato arresto dell'uomo. Non sa che quel gesto condizionerà tutta la sua vita in maniera indelebile. Gli agenti di fronte a questo racconto della donna le propongono di firmare un ordine di restrizione contro Brian Winchester, ma in realtà approfittano della sua presenza in dipartimento per puntare verso qualcos'altro di loro interesse, la sparizione di Mike Williams, avvenuta 16 anni prima. Denise è totalmente spiazzata da quelle domande. Lei che pensava di fare arrestare Brian si ritrova adesso sotto accusa, interrogata per qualcosa avvenuta 16 anni prima e di cui si era sempre detta estranea. La polizia le fa un serrato interrogatorio. Le dicono lo sappiamo che Brian ha ucciso Mike, lo sappiamo che l'ha fatto sparire, che a sei mesi di distanza ha fatto riapparire i suoi vestiti. Sappiamo tutto, Denise, ma la donna non cede un secondo e senza tradire emozioni dichiara di non volerne parlare. Mike era morto in seguito a un incidente in barca, non c'era altro da dire. Tra gli agenti ad interrogarla ce n'è uno in particolare che di quella inchiesta sapeva davvero tutto ed era certo che Brian fosse coinvolto e glielo dice chiaramente. Lui ha ucciso Mike per te perché voleva averti ed è talmente convinto e fermo nelle sue accuse che alla fine Denise scoppia a piangere. Brian Winchester, in seguito alla denuncia di Denise Merrill, verrà arrestato con l'accusa di rapimento. Quell'arresto sarà per la polizia la via di accesso per fare crollare totalmente la montagna di bugie che i due ex coniugi avevano montato su in sedici anni di silenzi, depistaggi e chissà che altro. L'uomo finisce davanti al giudice una settimana dopo quel tentato crimine. In aula quel giorno c'è anche Denise, la parte lesa, che davanti al giudice pronuncia un discorso molto toccante. Never, ever did I have any intentions of harming Denise, nor would I. Nonetheless, I do know that she was hurt by my actions. I start each day with the memory of him jumping out of the back and I end each day feeling the gun shoved in my ribs when I turn on my right side trying to sleep. He will finish what he has started. I am asking you to sentence him to life in prison for the crimes he has committed. La donna auspica che la giustizia la ripaghi di quel soporuso e soprattutto prega il giudice di non accettare alcun rilascio su cauzione per salvaguardare la sua incolumità e quella della figlia. La difesa di Brian spinge sulla disperazione dell'uomo che con quell'arma avrebbe voluto togliersi la vita perché aveva perso la moglie, la custodia del figlio e in ultimo aveva scoperto che la madre era malata di cancro terminale. Un mix che lo avrebbe portato a quell'atto sconsiderato. Ad ogni modo, accogliendo la richiesta di Dennis Merrell, il giudice non gli accorderà alcun rilascio su cauzione e nel dicembre del 2017 lo condannerà a una pena di vent'anni di reclusione. Ma c'è altro in ballo, c'è altro per cui Brian avrebbe dovuto rispondere di fronte alla legge. La presunta scomparsa di Mike in seguito a un incidente. E due mesi prima della sentenza per il rapimento, gli investigatori spingono Brian a fare un accordo con loro. Se avesse detto tutto quello che sapeva sulla sparizione di Mike, loro in cambio gli avrebbero concesso ogni attenuante possibile e lo avrebbero sollevato da una probabile condanna all'ergastolo. Ed è solo a quel punto che Brian confessa di aver ucciso il suo miglior amico Mike, con la complicità di Denise, la donna di cui si era innamorato molto prima della scomparsa dell'amico. E raccontiamola allora questa storia. I due avevano iniziato la loro relazione nel 1997, quando entrambi erano sposati e ben tre anni prima di quella misteriosa scomparsa. La loro era stata fin da subito una passione fortissima, esclusiva e talmente morbosa da arrivare a vedersi fino a 15 volte alla settimana. Spesso proprio a casa di Mike e Denise, quando l'amico non era in casa, il che accadeva spesso perché, lo abbiamo visto, Mike era ossessionato dal suo lavoro. Oppure approfittavano dei frequenti viaggi di lavoro di Mike per stare insieme. Una relazione, la loro che era nata anche perché Denise si sentiva insoddisfatta del suo matrimonio. Sì, perché Mike, nonostante tutti gli sforzi che faceva per essere un marito e un padre presente, nei fatti la trascurava. Inoltre, la loro vita sessuale era per lei alquanto deludente e il marito semplicemente non la treva più. Lo stesso Mike si era più volte confidato con Brian su quella relazione senza sesso con la moglie. Ignaro che la moglie e il suo miglior amico avessero già pianificato di ucciderlo. Ma c'era altro che preoccupava Mike in quei giorni. L'uomo aveva notato che il suo conto aveva dei sostanziosi ammanchi e sospettava che Denise fosse caduta in una qualche dipendenza da farmaci o droghe e che quei soldi le servissero per comprare le sostanze, quando in realtà le servivano per pagare le stanze di hotel e i regali a Brian. E non ho idea di come Brian abbia potuto guardarlo negli occhi, accogliere le sue confidenze e non sentirsi tremendamente in colpa. Non ne ho proprio idea. Ma perché Denise non aveva chiesto il divorzio? Non sarebbe stato più semplice per tutti. Secondo Brian quella era un'opzione che la donna per le sue convinzioni religiose o di altra natura non poteva prendere in considerazione. E quindi come liberarsene altrimenti? Uccidendolo? E pensate al cortocircuito di questa cosa. Denise non voleva divorziare per le sue convinzioni religiose ma uccidere il marito andava più che bene. Ad ogni modo il piano per fare fuori il povero Mike i due lo avevano organizzato nei minimi dettagli, a partire dal progetto di occultare il corpo e fare credere che fosse annegato o sbranato degli alligatori, in modo da poter incassare la sostanziosa polizza sulla vita, che lo stesso Brian aveva convinto Mike a stipulare, e vivere felici per il resto della loro vita. Ma Brian dice anche altro, e cioè che l'idea di quel progetto mortale era partito proprio da Denise, che non sopportava più il marito e tremava all'idea di dover partire con lui per quel viaggio, per festeggiare i sei anni di matrimonio. Brian dirà che Denise l'aveva letteralmente tormentato affinché lo uccidesse il prima possibile, possibilmente prima del 16 dicembre, il giorno della partenza per il loro viaggio. I due stabiliscono che il 9 dicembre del 2000 sarebbe stato il giorno in cui l'avrebbero fatto, ma al mattino Denise aveva chiamato Brian dicendogli che ci aveva ripensato, non voleva più farlo. Poi però il pensiero di dover passare altro tempo con lui, lontano da Brian, le aveva fatto cambiare nuovamente idea, e questa volta sarebbero andati fino in fondo. Il 16 dicembre del 2000, con il pretesto di andare in barca a caccia di anatre, Brian aveva trascinato Mike nella sua trappola mortale. I due all'alba, ognuno con la propria auto, si erano diretti al lago Seminol e, in particolare, nell'area in cui verranno ritrovati i trampolieri da pesca, la giacca e il resto della sua roba. Una zona molto fangosa dove, qualche tempo prima, Mike aveva già avuto un incidente, e sarà proprio quell'incidente a ispirare Brian quel suo progetto di morte. Il plan che è stato discutito e come up con, era che lui sarebbero portare in waders, e la città è che se qualcuno si fanno in acqua con waders, you're going down so we went out like we were going hunting we got to the area where his waiters and jacket were found I got him to stand up and I pushed him into the water he got his jacket off and his waiters off and he was in a panic obviously I was in a panic I was driving the boat and I didn't I didn't know what to do and I ended up shooting him so quindi qualcosa nel piano va storto perché mike dopo essere finito in acqua era riuscito a fatica a liberarsi dagli indumenti e a risalire in superficie e a quel punto l'uomo era pienamente consapevole delle intenzioni dell'amico i loro sguardi si erano incontrati quello di mike pieno di orrore per ciò che il suo miglior amico gli stava facendo e quello sconvolto di brian che dopo un attimo di esitazione aveva finito per sparare in faccia l'uomo aveva poi trascinato il corpo verso la riva del lago lo aveva caricato sul retro del suo pick up e aveva spinto la barca verso l'acqua poi era tornato a casa in tempo per rimettersi al letto vicino alla moglie che stava dormendo e che non si era resa conto dell'assenza del marito in seguito si scoprirà che il marito le aveva dato del sonnifero di nascosto per indurla ad un sonno profondo il piano era stato talmente ben studiato che denise brian nei giorni precedenti all'omicidio e anche successivamente non avevano avuto alcun contatto ma non solo brian aveva anche fatto in modo che mike non lo chiamasse al telefono quella mattina inventandogli la scusa che il suo cellulare era guasto in modo che in caso di indagini dai tabulati non risultasse alcun contatto fra loro nelle primissime ore del mattino nessuno in quel modo avrebbe mai potuto collegare brian all'omicidio dell'amico quello stesso giorno l'uomo sarà diretto da walmart per acquistare un badile con il quale aveva scavato una buca in un posto isolato per metterci dentro il corpo del povero mike quella sera stessa reciterà la parte dell'amico fraterno che si dispera per la scomparsa di mike accidentalmente finita in acqua dopo un incidente un piano perfetto sotto ogni aspetto e che per 16 anni era rimasto un segreto fra loro il rapporto fra brian e denise però ben presto crollerà sotto il peso di quell'orribile segreto e anche dei tradimenti di brian la fine del loro matrimonio getterà brian nel terrore l'uomo infatti temeva che denise per una forma di ripicca o chissà che altro potesse in qualche modo accusarlo di aver ucciso mike tirandosene fuori questo lo aveva reso paranoico e si era convinto che denise volesse incastrarlo dando a lui tutta la responsabilità di quell'orribile delitto una convinzione che lo porta la mattina del 4 agosto a intrufolarsi nella sua auto per intimarle di non dire mai una parola su quella storia avvenuta 16 anni prima e di portare con sé nella tomba il segreto di quella misteriosa scomparsa il giorno dopo quella terribile confessione brian indicherà ai poliziotti dove aveva sepolto il corpo di mike una località in mezzo al nulla a nord della contea di lion finalmente la verità su mike era venuta fuori e i suoi resti potevano trovare il giusto riposo tuttavia nonostante la confessione di brian le accuse a carico di denise sono piuttosto deboli non ci sono prove a sufficienza per arrestarla e mandarla a giudizio ecco perché la polizia tira fuori il suo asso nella manica katie la ex moglie di brian una figura chiave in tutta questa storia katie il 5 agosto del 2016 e cioè il giorno dopo l'aggressione a denise da parte di brian si era presentata al dipartimento per riferire di una strana telefonata ricevuta proprio da denise con cui inaspettatamente era rimasta in buoni rapporti in quella telefonata denise le chiedeva di chiamare marcus padre di brian e di riferirgli queste parole non ho detto nulla parole che marcus l'unico che poteva fare visita al figlio in carcere doveva fare arrivare a brian i poliziotti intuiscono subito che dietro quella frase criptica si nascondeva un messaggio ben preciso non parlare di mike per nessuna ragione al mondo e a quel punto decidono di usare katie per fare confessare denise le suggeriscono quindi di chiamarla nella speranza che la donna facesse qualche ammissione katie con grande coraggio qualche giorno dopo chiama denise una chiamata che viene debitamente intercettata e registrata dalla polizia katie al telefono le dice di aver ricevuto un mandato di comparizione per le accuse che denise aveva fatto a brian e di essere molto preoccupata che in dipartimento tirassero fuori la questione della scomparsa di mike ovviamente era tutto finto era un solo un modo per spingere denise a parlare perché i know i know they're wanting to talk to me about mike i don't know anything and i mean i do know what do you know well brian called me at the shop crying and before and mad he just told me about mike what did he say well i would love to know what happened to mike katie quindi dice a denise di sapere quanto era accaduto a mike e che era stato lo stesso brian a confidarglielo cosa che non era assolutamente vera so tutto le dice e so che l'avete pianificato voi due denise ha una reazione molto strana non si indigna non dice all'amica niente che potesse fare pensare che non fosse minimamente coinvolta anzi si mostra particolarmente fredda e priva di emozioni come se stesse parlando di pettegole zi fra amiche quando in realtà katie le stava facendo delle accuse precise una reazione decisamente strana per una persona che non sapeva niente e sebbene le prove a carico non fossero schiaccianti per gli inquirenti era piuttosto chiaro che denise ci fosse dentro fino al collo cinque mesi dopo anche la donna verrà arrestata per omicidio di primo grado per l'accusa inoltre era stata a lei a ordinare l'omicidio brian winchester sarà il principale accusatore testimone al processo contro denise merrill la difesa della donna piuttosto arditamente oserei dire proverà a dimostrare che denise non sapesse nulla di quel piano diabolico che il marito era talmente ossessionato da lei dalla voglia di averla tutta per sé che aveva deciso di uccidere mike senza mai coinvolgere denise nel dicembre del 2018 la giuria la giudicherà colpevole di tutti i capi d'accusa e la condannerà alla pena dell'ergastolo in aula quel giorno c'è anche cheryl una donna straordinaria che per 18 anni ha continuato a lottare affinché la verità sulla morte del figlio venisse a galla e chissà quanto coraggio le ci è voluto per riuscire a farlo senza mai cedere alla disperazione e alla rassegnazione anche quando tutti ignoravano i suoi appelli e le sue richieste di aiuto alla fine ha avuto giustizia ma quanto aveva perso di sé in tutti quegli anni e quanta rabbia ha dovuto trattenere nello scoprire che suo figlio era morto per una sporca questione fra amanti gli stessi che per 18 anni avevano continuato a vivere come se niente fosse e che le avevano impedito di avere un rapporto con la nipote una donna piccola fragile incapace di muoversi autonomamente ma che era riuscita nella grande impresa di fare arrestare gli assassini del figlio e a dargli una degna sepoltura nel 2020 al processo di appello la giuria ribalterà la sentenza di primo grado e farà cadere le accuse di suo carico mantenendo però solo l'accusa di concorso in omicidio e la condannerà a una pena di 30 anni la difesa di denise si appellerà anche a questa sentenza ma il giudice confermerà tutte le accuse a suo carico e nel 2021 confermerà anche la condanna a 30 anni di reclusione la figlia di denise e mike non crederà mai alle accuse nei confronti della madre ritenendola totalmente estranea ai fatti brian dirà i giudici aveva fatto tutto da solo di mike rimane il ricordo di chi l'ha amato per la sua rettitudine bontà d'animo e il suo immenso amore per la figlia e per la sua famiglia un uomo che non meritava una fine così orribile e insensata come si può preferire un omicidio a un divorzio è qualcosa che non riesco a spiegarmi in nessun modo voi che ne pensate fatemelo sapere nei commenti se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video seguitemi su instagram se volete alla pagina la conta storie e a presto con una nuova storia crime ciao